...e a fare la sagra al chioscro, perché era previsto che la facessimo parlare a questa sala, quindi vi ringrazio... ...è preso per la sagra, ciao Michele... ...te ne occupa... ...erro per distracci... Hai capito qual è il problema... ...la pasta, la pasta... ...la pasta, la pasta, la pasta perché io non la voglio... ...non è mia, io non ne ho pasta... ...allora è la mia... ...allora è la mia... ...e la portetta... ...quella purea... ...fosse che nessuno sta lì... ...va bene, allora deve spenderlo così... ...prezzo... ...ma ricordo... ...sì, vedete che la portetta... ...el primo di cesce... ...bom, bom, bom, bom... ...no, no, due di questi... ...e mia moglie tre... ...e tre... ...e tre...